Gli studenti di oggi sembrano essere più bravi di quelli di ieri, o almeno questo dicono i numeri relativi ai recenti esami di maturità, che hanno evidenziato una crescita sia dei promossi sia dei voti che questi hanno ottenuto. Nella maturità 2016 sono infatti aumentati gli studenti che hanno conseguito il diploma con una votazione sopra l'80, mentre continuano a calare i 60. In lieve aumento anche i bravissimi, ovvero coloro che hanno ottenuto 100 o addirittura a 100 elode. All'esame di primo grado passa il 99,8% dei candidati, mentre un ragazzo su quattro nelle scuole secondarie di secondo grado dovrà colmare a settembre una o più insufficienze, anche se generalmente i risultati degli studenti registrano un generale miglioramento e, sempre in generale, calano i bocciati. I dati sono stati diffusi dal Ministero a pochi giorni dalla conclusione dell'esame di Stato. Alla maturità di quest'anno è stato amesso il 96% degli allunni di qui, ed il 99,5% di questi è stato poi promosso, praticamente la totalità. Diminuiscono i giudizi più bassi con votazioni dei liceali che sono mediamente più alte. L'1,9% ha conseguito la lode, il 7,3% il 100, il 10,8% ha preso tra 91 e 99 e il 22,2% tra 81 e 90.